Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il Piano Triennale di Sicurezza Integrata, presentato dall'assessore Fabrizio Ricca. Tra i pilastri fondamentali del piano, l'incremento della videosorveglianza sul territorio e la dotazione sperimentale di bodycam alla polizia locale degli otto capoluoghi di provincia. È prevista anche l'istituzione del controllo di vicinato, con la partecipazione attiva dei cittadini nella prevenzione della criminalità sul territorio, in collaborazione con le forze dell'ordine. Il programma si compone da tre capisaldi, interventi di supporto, sistemi di sicurezza integrata e interventi di inclusione sociale. La sicurezza integrata è una parte importante che la Regione mette a disposizione per aiutare le forze dell'ordine, per rendere la polizia locale integrata. Il piano prevede anche alcuni interventi di inclusione sociale, progetti contro la devianza e il disagio giovanile per migliorare le zone degradate nelle periferie delle città, ritenuti però insufficienti dalle opposizioni, che hanno criticato anche la scarsità di risorse per la formazione degli agenti. Sono previsti 100.000 euro e la mancanza di misure concrete per l'inclusione sociale. Una confusione che non c'entra niente con le priorità della sicurezza integrata, non c'entra niente con gli allarmi che tra l'altro ogni giorno leggiamo da parte delle procure, delle prefetture, delle questure. Vi interrogo tutti perché si possa riprendere a parlare anche di che cosa serve davvero i nostri comuni. Per quanto riguarda il tema del controllo di vicinato, il piano prevede la figura del coordinatore che dovrebbe essere un esponente delle forze dell'ordine o comunque rapportarsi con loro nello svolgimento del suo compito. L'assessore ha assicurato che i coordinatori lavoreranno in stretto collegamento con la prefettura. Prima della votazione finale sul provvedimento, l'Assemblea ha approvato l'ordine del giorno collegato del primo firmatario Paolo Bongioanni, fratelli d'Italia, con emendamenti per estendere il programma sperimentale della fornitura dei dispositivi di protezione bodycam agli agenti di polizia locale di tutti i comuni piemontesi nel 2021 e 2022 e il progetto sperimentale finalizzato a elevare i livelli di sicurezza dei titolari di licenze taxi. Io credo che il provvedimento sia un buon piano integrato sulla sicurezza e sia nella sua complessità ben scritto e nel condivido quasi completamente i vari punti. Grazie. Grazie. Grazie.